Hey guys, qui è il vostro Giammi Gaming Vidal, benvenuti in questo nuovissimo video Ebbene sì ragazzi, lo aspettavate da un pochino di tempo questo primo vlog da quando ho iniziato le vacanze estive Beh, per chi ovviamente non lo sapesse, raga, avevo fatto anche una notizia a riguardo Lo trovate esattamente nella mia community e anche nel mio video short che avevo fatto anche a riguardo Ebbene sì, sono benissimo che anche molti di voi, raga, state già sentendo la mia mancanza E state cominciando a pensare anche il fatto di quando ritornerò a fare le live e soprattutto anche i video su Minecraft, Roblox e Fortnite eccetera eccetera Però state tranquilli ragazzi, naturalmente io come vi ho già detto ritornerò penso a fine agosto Poi caso mai vi avviserò direttamente anche attraverso altri video, altri vlog naturalmente Quindi non vi preoccupate di questa cosa Vabbè, detto questo spero almeno che posso anche accontentarvi Soprattutto spero almeno che sarete contenti anche del fatto che posso portarvi questi vlog attraverso le mie vacanze estive Quindi spero che sarete contenti lo stesso anche nonostante non portassi video come sempre anche live Vabbè, infatti come potete vedere non mi trovo più nella mia camera, sono esattamente nel mio appartamento E se volete che vi posso fare anche un piccolo tour del mio appartamento che ho qua in spiaggia Fatelo sapere anche nei commenti e soprattutto vediamo ad arrivare anche a 50 like se volete che ve lo faccia Va bene, per quanto riguarda queste prime giornate ho avuto un sacco di cose da fare Anche perché le prime giornate sono state un po' brutte Perché non ho avuto tempo esattamente per farvelo sapere molto prima Perché ha cominciato un po' a venire il tempo brutto Un po' giornate un po' brusche Quindi non ho avuto modo esattamente per rilassarmi Però erano i primi tre giorni Perché appunto ragazzi sono arrivato da tre giorni qui nel mio appartamento Qui in spiaggia E le prime giornate non sono andate a buon fine Quindi spero a meno che dalle prossime giornate a meno posso portarvi molto alto diciamo Vabbè, detto questo ragazzi Spero a meno che sarete contenti di questo mio primissimo arrivo Soprattutto anche di questa novità riguardo a questi vlog delle mie vacanze estive Detto questo ragazzi Fatemi sapere anche altre domande qua sotto nei commenti Se avete qualcosa da domandare o qualcosa del genere Appunto posso anche rispondere Quindi dentro questo ragazzi Volevo soltanto farvi questo piccolo video vlog del mio arrivo qui nel mio appartamento Soprattutto anche di questa nuova novità del mio canale in questo periodo dell'anno Quindi mi raccomando ragazzi Per i prossimi vlog naturalmente vi ricordo anche una cosa molto importante Vi ricordo anche che se ancora non lo sapete Io oltre a pubblicare i vlog ci saranno anche dei piccoli post attraverso Instagram Quindi per chi non l'aveste visti mi raccomando andatelo anche a vedere Ve lo metterò il link in descrizione naturalmente Quindi mi raccomando se ancora non mi state seguendo anche su Instagram Fatemelo adesso perché ci saranno molti post parecchi diciamo Non molti però parecchi abbastanza che pubblicherò anche su Instagram Quindi mi raccomando se avete seguito anche i miei stories andate anche a seguirmi pure lì Detto questo ragazzi come avevo già detto Voglio solo spiegarvi in che cosa consiste Cioè in cosa dovrebbe trattarsi questa novità riguardo il mio canale Solo per questo periodo poi come avevo già spiegato Verso agosto, fine agosto oppure verso inizio settembre Vi partiremo con live e video Bene, detto questo ragazzi Spero che il vlog vi sia piaciuto Io vi ricordo come sempre Se ancora non l'avete fatto Se volete seguirmi i prossimi vlog che farò direttamente in questo periodo Mi raccomando iscrivetevi Attivate la campanellina Per non perdervi ovviamente nessun video E mi raccomando Lasciate un bel like E condividete questo video con i vostri amici Detto questo ragazzi Da vostro Genie Gamer Vi saluto E al prossimo video Ciao